Musica Musica Amici dell'Orienteering, ben ritrovati da Pietro Ilarietti, ci prepariamo a vivere questa intensa tre giorni di Mediterranean Orienteering Championship. Andiamo però subito a sentire la voce dei protagonisti con l'organizzatore Gabriele Viale, il vice sindaco di Montecatini e poi la parola al tecnico, Aaron Gaio. Che cosa ci prepariamo a vivere? Oggi è una grande emozione, siamo qui a Montecatini in attesa del via di questa decima edizione del campionato Mediterraneo Open di corso orientamento. Sono dieci anni che giriamo per l'Italia, per il sud Italia soprattutto, con questo format che si è consolidato a livello internazionale. Oramai è una classica, può essere definita la Milano-Sanremo del ciclismo e quindi siamo molto onorati di essere qui in Toscana, per la prima volta siamo qui. Oggi iniziamo con Montecatini, domani a Cecina e poi chiuderemo sabato a Firenze. Un evento che oltre ai numeri e alla qualità dei concorrenti esprime anche un grosso potenziale dal punto di vista del turismo. Sicuramente, qui siamo pienamente all'interno del cosiddetto turismo sportivo perché oltre ai grandi campioni, pensiamo che abbiamo cinque campioni del mondo, abbiamo il campione del mondo Marte Bostrom in carica, il 19 volte vincitore in Coppa del Mondo Daniel Um e tanti altri. Loro trainano tutti gli appassionati, i veterani che così vengono in vacanza a fare un'attività sportiva e questo vuol dire per notamenti, posti letto, servizi, consumi e quindi questo va a integrare anche un turismo destagionalizzato che fa sempre bene in un'Italia che punta sicuramente all'industria del turismo. Un territorio che ha ben accolto questo appuntamento. Sì, noi siamo stati entusiasti fin dall'inizio, fin da quando ci è stato proposto di ospitare nella nostra città questo evento. Montecatini si presta per la sua posizione geografica e per la sua capacità di ospitalità a ospitare appunto eventi di grande richiamo anche a livello sportivo. Le nostre terme, il verde cittadino si presta appunto come luogo ospitale ideale anche per manifestazioni di questo tipo. Siamo molto soddisfatti per aver coinvolto anche le nostre scuole e di conseguenza l'esperienza è molto positiva, questo si è visto fin dall'arrivo degli ospiti in città. L'esperto tecnico dell'evento è Aaron Gaio. Tre prove totalmente diverse tra di loro. Sì, una prima prova a Montecatini appunto in questo parco quindi con cambi di direzione molto veloci. Direi sì, la tecnica più che altro in velocità quindi capire il punto giusto, ci saranno vari punti in giro per cui molto veloce. e domani andremo in un terreno completamente diverso sulla pianeta di Cecina quindi un bosco abbastanza fitto, movimenti molto accentuati e quindi fino ad arrivare più vicino alla spiaggia con l'arrivo sul mare per cui dal parco andiamo completamente nel bosco con un terreno molto molto diverso, distanza middle sarà più lunga quindi una mezz'oretta di gara per i primi, non più il quarto d'ora della prima e della terza tappa per poi finire con l'ultima tappa a Firenze in un terreno completamente piatto, un parco lungo l'Arno, il parco delle cascine di Firenze che avrà la particolarità della partenza a cazza come tappa quindi i migliori partiranno con chi sarà in testa dopo due tappe partirà per primo e gli altri dietro a seconda del distacco che avranno quindi credo che i distacchi saranno limitati e vedremo una bella sfida forse una delle sprint più velozi che possiamo trovare sicuramente in Italia. Ecco queste erano le parole dei tecnici, ci prepariamo così a vivere queste tre prove di Montecatini, Cecina e Firenze campioni, tanti turisti, 300 partenti da 19 nazioni differenti una sorpresa per tutti gli amanti dell'orientiere in cui al mio fianco uno dei più grandi speaker italiani, Stefano Calletti Buongiorno a tutti, grazie Pietro per l'ospitalità Ha detto bene Gabriele Viale, tanti campioni al via, alcuni li abbiamo già visti, abbiamo visto per esempio Mattias Chiburz abbiamo visto Daniel Hubman, qui vediamo la mappa di Montecatini nello special organizzato da Claudio Russo Sì, sono i 23 punti così come ben sapete i concorrenti vanno da un punto all'altro, ovviamente in un rigoroso ordine non si deve saltare nemmeno un punto. E andiamo a vedere alcune di queste partenze è doveroso citare gli azzurri in gara che sono Riccardo Scaletti e Giacomo Zagonel entrambi provenienti dalla Valle di Premiero, così come Mattia De Bertolis invece gioca in casa e dell'Ikp Prato Gianluca Salvioni tra le donne da citare Elisa Lucian, le sorelle Arianna e Francesca Taufer e Martina Palumbo osservati speciali da... dal coach Jaroslav Kakmarchik per una selezione ai campionati mondiali 2014 che si disputeranno proprio in Italia nel mese di luglio sugli altopiani di Asiago, Folgaria, Lavarone e nelle città di Trento e Venezia. Abbiamo visto proprio la partenza di Gianluca Salvioni uno degli azzurri in gara, questo in gara con Vanessa Rao dell'Australiana e il premierotto Mattia De Bertolis con la divisa della squadra nazionale Ecco gli azzurri che sono qui anche non solo per i campionati mondiali ma si guarda ai campionati europei che si tengono il mese prossimo in Portogallo Portogallo nel territorio di Palmela, un territorio abbastanza piatto quindi una possibilità in queste situazioni di organizzarsi come si sta organizzando proprio Martin Bostrom questo è uno degli osservati speciali, è il campione del mondo proprio su questa distanza Quindi non uno qualunque, uno che oggi potrebbe magari anche vincere Potrebbe vincere così come potrebbe vincere anche l'atleta danese che è partita insieme a lui Maya Alm già sul podio proprio sulla distanza sprint ai campionati mondiali di qualche anno fa E ti devo interrompere ancora una volta perché qua abbiamo altri due pezzi da 90 A destra Judith Fieder, la nouvelle vague della squadra elvetica A sinistra abbiamo visto Daniel Uppman, il killer della nazionale elvetica più volte campione del mondo, più volte vincitore della Coppa del Mondo sicuramente uno degli orientisti più forti di questo decennio Beh direi che qui il campo dei partenti è veramente qualificato ma secondo te chi la potrà spuntare? Beh Uppman sicuramente è uno dei favoriti in campo maschile dovrà guardarsi soprattutto dallo svedese Jonas Leanderson specialista, già a medaglia di bronzo ai campionati mondiali, nella distanza sprint Qui invece a cura di Claudio Russo vediamo la rappresentazione di quello che è un esempio di percorso di gara ovviamente ognuno ha un percorso sapete che nell'orientino ognuno se lo fa a modo suo perché non è detto che per andare da un punto all'altro tutti ci vadano passando dalla stessa traiettoria è un esempio che abbiamo voluto realizzare per farvi capire meglio come vanno le cose in gara Abbiamo visto passare altri fortissimi atleti uno di questi era Martin Uppman, il fratellino di Dani il fratellino per modo di dire è già campione europeo a staffetta con la Nazionale Elvetica sicuramente uno dei candidati per i prossimi europei Non solo campioni abbiamo visto qui in questa discesa, molti master in gara Abbiamo vinto molti master, questo dovrebbe essere Nick Barable, un atleta inglese dietro a lui invece un atleta junior, se era proprio Francesca Taufer atleta dell'US Primiero, di Fier di Primiero Bene, qua gli atleti sono molto ben visibili in questo parco bellissimo nelle terme di Montecatini una gara come ho detto molto veloce e ora vedremo gli atleti al punto spettacolo cioè quel punto che permette al pubblico di vedere da vicino i propri campioni che altrimenti sarebbero sempre in bosco, no? Esatto, sarebbero sempre in bosco, permette anche agli allenatori in questo caso di vedere i distacchi tra gli atleti e di calcolare magari se un atleta è in vantaggio su un altro e di dare qualche utile indicazione gli atleti passano appunto dal punto spettacolo la cosiddetta lanterna 100 alla quale torneranno dopo un ultimo giro che li vedrà sicuramente correre al spasimo, al massimo delle loro possibilità Ecco, mentre arrivano i primi master lungo questo vialetto che porta al traguardo anche i bambini delle scuole elementari Il passaggio di Mortenbostrom per la squadra finlandese altri passaggi Felicity Brown della squadra nazionale australiana proprio dai cinque continenti per partecipare al Mediterraneo in Oriente in Championship Atleti della squadra nazionale britannica che ha utilizzato questa gara anche come selezione per i prossimi campionati europei e tra poco vedremo arrivare sicuramente anche i vincitori in campo femminile si aspetta una sfida svizzera questo è sicuramente un campione da citare Stefano, un campione da citare che però in questa gara non sembra andare molto bene oggi Sicuramente il norvegese Osterbo sempre piazzato a livello di campionato mondiale può ben figurare il suo appuntamento sono i mondiali 2014 Ecco l'azzurro Mattia De Bertolis e prima due atleti australiane testimoniano proprio l'internazionalità dell'evento Esatto, Felicity Brown e Vanessa Round al traguardo insieme si sono raggiunte nel parco di Cecina altri atleti sul traguardo che subito controllano la loro situazione e sicuramente anche Gianluca Salvioni ha la possibilità di controllare il suo percorso, il suo tempo Gianluca Salvioni è atleta di Lappato proprio a pochissimi chilometri da qua una, come ci ha confidato una delle poche gane in cui è arrivato facilmente sul traguardo Morten Bostrom sul traguardo completa la sua gara, completa la sua prova finalmente in un tempo sicuramente di riferimento arrivano al traguardo anche atleti svizzeri questo è Mattias Kiburz due anni fa leader della Coppa del Mondo Iniziamo a salire con la qualità dei concorrenti Sicuramente sono atleti che hanno già vinto medaglie sia a livello di campionati europei che a livello di campionati del mondo e questi sono concorrenti che si sfideranno sicuramente sul terreno di... Ecco che ci aspettiamo allora di vedere arrivare quelli che saranno i possibili vincitori perché qui la qualità, eccone uno ad esempio Questo è sicuramente, abbiamo visto prima lo svedese Jonas Leanderson c'è anche Judith Wider della nazionale elvetica e questo, eccolo qua Leroy, il killer, proprio lui Daniel Uppmann, più volte campione del mondo più volte vincitore della Coppa del Mondo sicuramente a suo agio su questo terreno Questa è una situazione Esatto, un arrivo importante Un arrivo importante, quello di Emma Klingenberg un'atleta che a livello juniores ha vinto medaglie importanti ai mondiali di categoria e quest'oggi è una delle favorite proprio su questa distanza che l'ha vista premeggiare così come l'inglese Scott Frazier Allora, distanza corta ma arrivano stanchissimi sul traguardo Sono atleti che hanno dato tutto così come tutto quanto ha dato Jonas Leanderson che vince con 6 secondi su Daniel Uppmann e altri pochi secondi sul belga Yannick Michels una autentica sorpresa Tra le donne, Emma Klingenberg davanti a Maya Alm e Sabine Auschwil Le due danesi, sforti della loro esperienza della loro capacità sulla distanza sprint sono sicuramente tra le favorite E andiamo così finalmente a vedere bene in viso questi vincitori prima premiamo tutti i vincitori di giornata vedete, partecipanti veramente giovani e partecipanti delle categorie master Eccoli qua invece i vincitori della categoria elite la nostra Klingenberg i nostri due vincitori della categoria assoluta mentre sulla destra vediamo il presidente fisso Mauro Gazzero poi Gabriele Viale e all'estrema sinistra Michele Barbone Vincitori di oggi, Emma, Iunas complimenti, una grande gara qui a Montecatini Sì, ho fatto una buona gara è molto bello essere qui con belle, in mezzo dei monumenti c'è il sole ed è stato un ottimo allenamento per i campionati mondiali una buona gara sicuramente anche per me ho dovuto ottenere un'alta velocità e rimanere sempre molto concentrato sulla mappa comunque nel complesso un'ottima gara E siamo alla seconda tappa siamo a Cecina in questa pineta sul mare cambiamo completamente lo scenario di gara diciamo che sicuramente potrebbe essere Stefano la tappa che stravolgerà la classifica generale Sicuramente una tappa che da sola è lunga più delle altre due messe insieme una tappa che presenta anche dei rilievi altimetrici importanti questa la carta predisposta dalla sezione tecnica di Claudio Russo come si vede una tappa che associa anche una certa vegetazione abbastanza invasiva per la corsa dei concorrenti il bosco non è così aperto come potrebbe sembrare guardando da lontano da spiaggia Ecco qua vediamo il nostro Gianluca Salvioni è uno degli italiani in gara ovviamente e non potrebbe essere diversamente noi siamo anche un po' di parte con il nostro tifo Siamo di parte ma non dobbiamo dimenticare che gli atleti italiani in questo Mediterraneo Rolentino Championship si sono confrontati veramente col gota dell'elite internazionale E a proposito di gare internazionali Roland Pinn che l'anno scorso è entrato nella top 10 ai campionati mondiali master che si sono svolti a Sestriere In questa prima fase vediamo atleti intenti proprio in una fase di ambientamento potremmo dire, studio del bosco, dei dettagli Esatto, gli atleti cercano di entrare in gara il più concentrati possibile sicuramente ma anche il più vicini a quelle che potrebbero essere le caratteristiche del bosco si guardano attorno, cercano di studiare il terreno cercano di capire in che direzione proprio a livello di purti cardinali come ha fatto questo atleta proprio in questo momento in che direzione partiranno per avere subito la mappa orientata nella direzione giusta sono favoriti dal fatto che i primi metri sono fettucciati quindi è una sorta di sentiero guidato che li conduce proprio nel bosco e in questo senso i primi metri servono proprio per orientare la mappa e prendere confidenza anche col fondo del terreno Ecco questi occhialini che vedete sono un paio di occhiali dotati di microcamera e oggi vedremo un esperimento direttamente dal bosco con la nostra telecamerina posizionata per regalare l'emozione di essere un vero orientista parte un grande corridore parte Martin Ubbman velocissimo e subito dietro di lui nelle immagini vediamo il fratello maggiore Daniel Ubbman Daniel Ubbman che non ha nessuna intenzione di abdicare né a livello internazionale né a livello familiare dietro a Daniel Ubbman uno degli atleti che gli renderà più dura la vita ai campionati mondiali il finlandese è già citato Morten Bostrom campione del mondo sprint due anni fa A proposito di Daniel Ubbman in un momento di incontro ci ha proprio confidato che non ha nessuna intenzione di mollare l'orientiering ad alto livello mentre lasciamo partire Bostrom continuiamo questo discorso su Ubbman che ci ha detto che sarà sicuramente ai mondiali di Asiago, Lavarone e Folgaria è passata intanto un'altra atleta ticinese Nina Nembrini dell'Aget Lugano come si può vedere il bosco alterna zone più aperte ad altre dove la vegetazione è un po' più invasiva i concorrenti troveranno quindi pane per i loro denti Daniel Ubbman in questa gara vuole sicuramente rimontare la posizione in classifica i 7 secondi che lo separano da Jonas Leanderson è la sua distanza Leanderson forse più favorito sulla distanza breve Ubbman un po' più favorito sulla media distanza Ho ancora un esempio che ci spiega cosa dovranno fare gli atleti oggi all'interno di questa pineta come vedete ognuno va a cercare quello che ritiene essere il percorso migliore e quindi potrebbe essere per assurdo che due atleti di vertici compiano due scelte diametralmente opposte Questa è una cosa che si verifica molto spesso anzi è la prassi nell'orientiering l'atleta che stiamo vedendo in questo momento è Susan Loesch della squadra nazionale tedesca sono atleti abituati a correre in Italia anche al lago di Lavarone come è successo l'anno scorso in una tappa del World Ranking Event stanno appunto preparando al meglio i campionati mondiali E qui ti interrompo perché vediamo ancora il nostro Roland Pinn perché sai noi siamo sempre un po' partigiani e siamo un'attenzione particolare agli atleti azzurri Roland Pinn che è anche ora un ottimo allenatore Roland Pinn è stato anche due volte campione europeo, master e qui è proprio l'immagine vista dal punto di vista dell'orientiering, dell'orientista in questa glasses camera questo esperimento lanciato nella pineta di Cecina che fa vedere proprio il punto di vista dell'atleta Senti Stefano, tu che sei un orientista quanto rende l'idea questa camera? Rende molto bene l'idea perché quella è proprio la visuale davanti agli occhi del concorrente ci sono due tipi di visuale per l'orientista quello negli occhi e quello a livello dei piedi i piedi possono essere più ostacolati mentre gli occhi possono avere una visuale più sgombra quell'immagine dava sicuramente l'idea anche con il movimento della testa e della cartina di quella che è l'attenzione che il concorrente mette a tutti i dettagli e tutti i movimenti del terreno attorno a sé Ecco qui possiamo notare come i concorrenti passino che sembrano quasi dei passaggi senza senso però dentro ognuno di loro c'è comunque un'idea molto ben chiara di quello che deve essere il percorso ci spostiamo sempre con l'aiuto della nostra glasses camera in zona arrivo attenzione qua guardate che spettacolo in quale altro sport si vede l'arrivo proprio a bordo esatto esatto un arrivo tra l'altro molto faticoso perché i concorrenti affrontano la sabbia non è assolutamente facile con i muscoli pieni di acido lattico avanzare nella sabbia è un terreno cedevole sotto i piedi però è lo sprint bisogna dare tutto fino all'ultimo istante perché ogni secondo conta soprattutto quando le distanze sono così brevi bene allora secondo quello che sono ecco attenzione uno dei nostri osservati speciali Martin Udman Martin Udman sta arrivando a traguardo in questo momento è partito pochi minuti prima del fratello Daniel che quindi potrebbe essere subito sulle sue code Martin Udman completa la sua gara è sicuramente in fase di preparazione sia dei campionati europei per i quali è già stato convocato che dei prossimi campionati mondiali eccolo qui il nostro Riccardo Scalett per lui una gara discreta e subito il confronto con i suoi compagni di squadra in questo caso Riccardo Scalett confronta subito le scelte nella vegetazione un po' fitta arrivano anche altri atleti questo era proprio Morten Bostrom il finlandese volante che travolge anche un pezzo del rettilino di arrivo e subito lo rimette a posto una delle migliori gare fino a questo momento il cronometro dice che è nella top 3 nella top 3 ma adesso stanno arrivando veramente i grandi big questo è Daniel Udman un atleta che non ha bisogno del Mediterraneo Orienteering Championship per aumentare la sua credibilità ma sicuramente vuole vincere vuole vincere perché l'avversario di oggi è Jonas Leanderson si rincontreranno ai mondiali la sua corsa era veramente energica e lo vedo arrivare ancora non dico rilassato ma a un bel viso Daniel Udman ha sempre quella concentrazione nel volto un autentico killer arriva anche l'atleta danese che ha vinto ieri Emma Klingenberg bisognerà vedere e attenzione abbiamo finalmente l'ufficialità del cronometro che è andato a prendersi la testa della gara e della classifica quindi potremmo dire tappa e maglia stesso discorso per Sabine Hauswirth Daniel Udman guida con una trentina di secondi di vantaggio su Jonas Leanderson in campo femminile prende la testa Sabine Hauswirth sulla forte atleta della Gran Bretagna Catherine Taylor terzo posto per Judith Wider passiamo quindi alle premiazioni con Gabriele Viale che si prepara a chiamare sul palco tutti i vincitori di giornata in questo caso la classifica vede Daniel Udman vincitore di tappa e leader maglia rosa della gara di Cecina abbiamo visto inquadrato anche Roberto Pradello uno dei tecnici della squadra nazionale italiana della FISO ed eccoli i nostri due vincitori che andiamo a ascoltare primi di tappa e primi nella classifica generale oggi è una grande vittoria per te sì, una bella gara e speravo di vincere anche per me è una bella gara dove dovevi essere molto concentrato molto difficile ma bisognava fare la scelta giusta siete qui per allenarvi ma anche per preparare i campionati mondiali sì, una competizione importante è una competizione molto importante una gara molto carina qui al MOC e siamo qui per lavorare ci saranno i campionati del mondo a luglio sì, faremo un training camp a maggio per preparare questi campionati sì, anch'io farò la stessa cosa farò lo stesso camp di allenamento per preparare i campionati del mondo e domani a Firenze? e sì, cercherò di vincere certo, anch'io proverò a vincere thank you very much siamo tutti fratelli Mauro Coglielmi, responsabile CONI della provincia di Livorno una toscana terra di sport sì, è vero, è vero anche questa zona in particolare è continuamente diciamo sede di allenamenti, di gare di tutti gli sport e questa novità vostra ci ha fatto molto piacere vediamo davvero un'organizzazione un'adesione sopra ogni aspettativa credo che vi siate trovati bene in Toscana magari anche a Cecina credo che questa location sarà dura per voi andare via con questa giornata molto ben organizzata questa cosa della vostra federazione è un po' una novità la quale noi cercheremo di approfondire e di seguirla meglio perché finora è proprio lo stile di una grande novità effettivamente Stefano come da retorto a Paolo Guglielmi difficile andare via da questo mare difficile ma i concorrenti sanno che le aspetta ancora una tappa ancora un momento di divertimento queste sono le immagini del parco delle cascine Firenze come poi ci ha anticipato Aaron Gaio nella sua presentazione si tratta ora di una tappa molto veloce e quindi importantissimo saper correre 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 però pensare anche a dove si sta andando questa è l'essenza dell'orienteering sicuramente le atlete che stiamo vedendo si stanno concentrando questa è la carta di gara con i 25 punti di controllo disposti sul percorso del parco delle cascine un parco delle cascine che qualche anno fa ha visto anche l'assegnazione del campionato italiano proprio sulla distanza sprint ricordiamo i vincitori di allora che furono Michela Guizzardi e Andrea Seppi Andrea Seppi e Michela Guizzardi esatto attenzione Stefano oggi una partenza diversa dal solito infatti il primo a partire è il leader della classifica come si chiama questa partenza e spiegacela tu è la partenza a caccia si parte come ormai sempre più spesso nelle gare di sci di fondo di biathlon con il distacco assunto in classifica Sabine Hauswirth è partita per prima così come Daniel Ubbman la lanterna che i concorrenti raggiungono è quella dove è posizionato il triangolo qui vediamo la partenza proprio di Catherine Taylor e di Jonas Leanderson sono l'atleta in campo femminile e in campo maschile posizionate in seconda posizione bene ringraziamo per le immagini di oggi Attila Pasi che dopo Claudio Russo e Francesco Buffa è il nostro terzo operatore in campo quindi partono questi big tutti all'inseguimento di Sabine Hauswirth e Daniel Ubbman ce la faranno a raggiungerli punto di domanda è un punto di domanda e per loro anche la possibilità di vederli da lontano in un parco molto aperto perché la visibilità a livello degli occhi è assolutamente perfetta e qui invece un inedito grazie a Christine Fjellanger atleta norvegese che ci ha concesso le immagini della sua GoPro eccola qui queste sono proprio le sensazioni e la velocità che si prova su una distanza sprint in un parco cittadino così aperto gli atleti vanno veramente a tutta velocità come sta andando a tutta velocità in questo momento a caccia del primato Sabine Hauswirth ecco qui grazie a Claudio Russo l'animazione e questo è il parco delle cascine e il percorso ideale che noi abbiamo individuato e torniamo ora alla nostra gara vediamo i nostri atleti capiremo ben presto se le nostre lepri saranno fuggite con successo oppure se la caccia avrà avuto il sopravvento Stefano correre con questa pressione psicologica è difficile? è difficile ma è anche entusiasmante è l'essenza dell'orientering sia sulla distanza sprint che appunto in una partenza caccia il primato logo a chi non ce l'ha e sono sicuro che tutti gli atleti e le atlete vorrebbero essere al posto di Sabine Hauswirth e di Daniel Ubbman in testa alla gara nel caso specifico Sabine Hauswirth ha 30 secondi di vantaggio anche Daniel Ubbman ha circa 30 secondi di vantaggio e come stiamo vedendo Sabine Hauswirth è stata in grado di mantenere la testa della classifica arriva al traguardo quasi in surplus alza il braccio perché non è stata raggiunta e sa di aver vinto eccolo anche lui Daniel Ubbman quindi il divario è stato sufficiente sono loro i vincitori di questo Mediterranean Orienteering Championship per Daniel Ubbman un grande atleta esperto non è stato difficile sfuggire alla caccia di Leanderson una caccia che invece ha avuto buon successo per Judith Wider che conquista la terza posizione in classifica Judith Wider che non ha vinto ma ha alzato le braccia evidentemente molto soddisfatta di questo piazzamento al MOC esatto questa è la che arriva al traguardo l'ungherese Ildiko Scerensky si classifica in quinto posto probabilmente vince il premio simpatia esatto sicuramente non si aspettava questa prestazione nel top delle elite internazionali eccolo qui il nostro secondo classificato non ce l'ha fatta il nostro Leanderson ha da guantare Ubbman sarà sicuramente il campionato mondiale il terreno per la rivincita tra questi due atleti ed eccolo però oggi a vincere c'è Mattias Kiburs quindi un grande atleta il vincitore della Coppa del Mondo di due anni fa vince in campo femminile Maialma atleta già sul podio ai campionati mondiali la classifica generale a Daniel Umbman che quindi conquista questo mock mentre Sabine Auschwitz è la vincitrice della classifica generale esatto proprio così mi preme ricordare che il terzo posto della classifica maschile è una sorpresa il belga Yannick Michels una relativa sorpresa e siamo alle premiazioni curate da Gabriele Viale molte le autorità presenti questa è proprio la terza in classifica Judith Wider della Nazionale Svizzera e parimenti della Nazionale Svizzera la vincitrice in campo femminile Sabine Auschwitz proprio con la tuta bianca e rossa crociata è così il momento delle premiazioni e a premiare oggi anche Dario Brottini degli albergatori di Montecatini ovviamente eccoli qui i primi tre classificati maschile e femminile della categoria Elite qui con Gabriele Viale organizzatore Katrin oggi non era possibile vincere contro questi avversari? no ero molto stanca ma non potevo fare di più sì Daniel era molto veloce e lui è uno dei migliori performer uno dei migliori atleti e è stato più veloce di me hai corso con una certa pressione ma hai vinto sì ho fatto una gara in sicurezza e avevo 31 secondi di vantaggio che sono stati sufficienti una carriera ricca di successi ma questo è il tuo primo mock sì è bello vincere qui finalmente al mock sono venuto varie volte non avevo mai vinto oggi hai corso rilassato no non rilassato l'ho dovuto spingere perché gli altri erano dietro di me ma ho mantenuto la leadership fino alla fine un'Italia che ti porta fortuna adesso guardi ai mondiali sì adesso ho vinto in Italia ma ora guardo ai campionati del mondo veramente simpatico Daniel Lubman bene stiamo quasi per avvicinarci alla conclusione di questo trittico però prima di salutarvi ascoltiamo la voce del segretario generale dell'affiso Andrea Rinaldi e del presidente Mauro Gazzero Andrea Rinaldi segretario generale dell'affiso per la federazione un bilancio di che tipo? tre giorni di festa di Orientirin direi che per l'affiso queste sono cartoline importanti perché l'Orientirin passa attraverso questi passaggi anche di eventi internazionali di alto livello mescolati anche a questo pubblico questi ragazzi fino agli 80 anni che vengono a valorizzare le nostre città nulla di meglio per la sostenibilità dell'Orientirin avere i grandi campioni e le persone che vengono a fare il turismo Presidente Mauro Gazzero si conclude questo mock con un risultato che per voi? un risultato importante ha perduto la stagione con una tre giorni di Toscana che ha trovato il sole abbiamo finito qui a Firenze un tritico importantissimo passando per Montecatini e Cecina e quindi direi nel migliore dei modi il lancio stagione domani a Milano trofeo centri storici altro appuntamento importantissimo valido fra l'altro come selezione per la nostra squadra nazionale ecco però l'Italia quest'anno aspetta tanti appuntamenti importanti uno in particolare ma siamo assolutamente concentrati perché a luglio come ormai noto ospiteremo i campionati del mondo assoluti tra gli altopiani di Asiago e Lavarone quindi ci stiamo preparando sia in termini di squadra nazionale che in termini organizzativi queste le parole del presidente dell'affiso Mauro Gazzerro quindi tre giorni intensi di sport di emozioni di capovolgimenti di classifica immagini live dal bosco location bellissime siamo arrivati quindi alla fine Stefano che dire di più che dire che ci vediamo ai campionati mondiali del 2014 prima settimana di luglio con tutti questi campioni da Pietro Larietti e Stefano Galletti arrivederci a tutti alla prossima